L'amministrazione comunale di Taranto, l'amministrazione Melucci, sa parlare tanto, si sciacqua la bocca parlando di turismo, di Taranto capitale del turismo. È tutto fumo, tutto il fumo, le chiacchiere che raccontano Melucci e Manzulli per darsi un tono, poi effettivamente in termini di turismo sanno fare poco o nulla. Basti considerare per esempio i croceristi che arrivano e non hanno un servizio di accoglienza, ma la cosa terra terra su cui mi soffermerò oggi è un'altra. Dicevo, mi trovo qui dinnanzi ai resti delle fortificazioni di epoca annibalica in via Regina Margherita, quasi ad angolo con il Ponte Girevole. Vedete, siamo nel pieno Borgo Umbertino, proprio a due passi, dicevo, dal castello, dal Ponte Girevole e vedete tutte queste lastre di vetro, queste vetrate che contengono i resti, peraltro con un sistema di aerazione che non funziona, vengono lavate, vengono puliti i vetri da parte del caffè Garibaldi del bar che sta qui davanti, che sua sponte con senso civico e disponibilità cerca di rendere la zona pulita, decente rispetto alla schifezza di polvere che si annida qui. È vergognoso che queste cose vengano fatte da un bar e non dall'amministrazione comunale. Un merito enorme agli amici del caffè Garibaldi per quello che fanno, perché rendono la zona certamente vivibile, ma il massimo disprezzo verso l'amministrazione è che non si degna di fare questo. Cioè arriviamo al punto che un privato deve pulirsi da sola la zona, da solo la zona che ha davanti al proprio esercizio commerciale. Altra cosa, dicasi, qui davanti, proprio con riferimento alla pavimentazione, non viene lavata, non viene disinfettata dai mezzi dell'AMIU e sono gli stessi operatori del bar che, come si suol dire, caro Melucci, stricano il pavimento, lo stricano, stricano i mattoni, quando invece dovreste essere voi dell'amministrazione comunale a farli pulire, a farli stricare. Capito Melucci? Capito Manzulli? E voi guardate, la zona è sporca, chiaramente, è malmessa e poveretti, lo stesso bar fa quello che può fare, peraltro a proprie spese, con detersivi e con olio di gomito. Questo è l'aspetto davvero grave. E voi e tu Melucci e tu Manzulli avete il coraggio di parlare di turismo? Così voi fate il turismo? Con la schifezza che sta a terra in pieno centro davanti al ponte girevole? Quando vengono i croceristi cosa devono fare? Ringraziate coloro i quali puliscono a proprie spese, con i propri mezzi e con le proprie energie. Fanno quello che voi delle istituzioni dovreste fare. Lo dico ora da consigliere comunale, pretendo risposte. Il cittadino paga le tasse, le attività commerciali pagano la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. E cosa hanno in cambio? La schifezza? La sporcizia? E dove sta scritto che devono essere loro a pulire? Questa è Taranto, non le favole, le chiacchiere, gli inganni dell'amministrazione Melucci. Riflettete cittadini, riflettete.